Sono Giulio Boschi, contrabassista e compositore jazz, nonché direttore artistico del Rasenna Music Live Festival. Lo scopo del festival è stato quello di viaggiare tra jazz e arte, sia con brani di mia composizione, che con il jazz americano più autentico e tradizionale. Il pittore Umberto Falchini ha realizzato un quadro da una tela completamente bianca durante il primo concerto, ispirandosi alla musica che sentiva. Il festival è dedicato alla pace, all'integrazione e all'unione del popolo. I see friends shaking hands, saying how do you do, they really sing, I love you. Contraboschis Ensemble presento i componenti. Stefano Bergamaschi alla tromba. Gianluca Salcuni al sax tenore. Andrea Grillone al pianoforte. Giulio Boschi al contrabassi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un ringraziamento anche all'associazione Razenda Music Art che ci ha permesso questa realizzazione insieme al Comune e alla Fondazione Livorno Mattia Donati, chitarra a cosce Claudia Loci, pianoforte Giulio Mosca Grazie mille, buona serata Grazie e al prossimo festival Grazie a tutti Grazie.